L'arrivo dei feretri nella cappella cimiteriale apre uno squarcio in quelle piaghe grondanti di dolore, solo temporaneamente anestetizzate dall'incessante trascorrere del tempo, ma davanti ai corpi di Roberto, Antonio e Serafina, finalmente pronti per essere degnamente sepolti, la comunità piomba nuovamente nell'incubo di quelle ore drammatiche di quel rogo assassino che il 18 agosto scorso divorò l'abitazione dei malcapitati, proprio di fronte al Duomo, nel cuore del centro storico di Cosenza. I loro resti sono rimasti a lungo sotto sequestro nella speranza di poter ricostruire la sequenza degli eventi, ma dall'indagine giudiziaria non sono affiorati elementi utili a capire. Quali siano state le cause scatenanti dell'incendio rimane un mistero, adesso che i magistrati hanno restituito le spoglie alla famiglia, il paroco della cattedrale, Don Luca Perri, ha celebrato una messa in suffraggio dei tre defunti, di Antonio Noce, del nipote Roberto Goli e di Serafina Speranza. I funerali erano stati ufficiati nel mese di settembre dal padre arcivescovo Monsignor Francesco Nolè, ma senza le salme, la comunità parrocchiale del centro storico è tornata a stringersi intorno ai familiari delle vittime. Riposeranno in pace nei loculi messi a disposizione dalla curia. Intanto nessuna verità è emersa dall'inchiesta, ancora aperta e nelle mani della procura. Non sappiamo se dietro la tragedia vi sia stato il gesto omicida di qualche sconsiderato o la fraternità. e forse non lo sapremo mai. Salvatore Bruno per la CNews24.